we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi porca di quella porca quante novità nel video di oggi come sapete ragazzi nella sezione notizie è apparso un pop up incredibile per tutti gli amanti del basket e soprattutto del grande michael sembra che oggi anzi è assicurato oggi dopo l'update di questa mattina delle ore 10 vi ricordo è velocemente non perdete la mia pagina instagram ragazzi perché troverete tutti i leaks dalle 10 e qualcosa insomma appena scarichiamo il grandissimo update e quindi ragazzi nel video di oggi parleremo e approfondiremo questo argomento della nuova collaborazione con jordan da parte di epic games ma ragazzi grandissima giornata quella di ieri perché viene svelata e abbiamo anche un gameplay della nuova skin per i possessori del nuovo honor 20 una skin che si chiamerà wonder e ragazzi in chiusura io non posso abbandonarlo non posso non posso voglio aggiornarvi sul caso tifu come cavolo si chiama non riesco a pronunciarlo ce ne sono delle belle raga ce ne sono delle belle assolutamente prima però voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone nello shop grazie di cuore ragazzi per iscrivervi al canale per supportarlo ma mi raccomando non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la domandina la domandina ve la devo fare ve l'ho fatta anche su instagram per chi non l'avesse vista gliela rifaccio qua ragazzi ed è una domanda che merita la vostra attenzione ma secondo voi i cavi elettrici quelli che da sponde del saccheggio portano direttamente l'elettricità a neo inclinata faranno parte dell'evento della season 9 potremmo aspettarci una nuova città che cadrà nell'ombra o addirittura un blackout totale nella mappa ragazzi le teorie continuano ad aumentare in giro per il web e questi cavi in realtà sono molto molto particolari a parer mio avranno sicuramente una parte fondamentale nel primo evento della season 9 ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere il pop up ufficiale che troviamo nella dashboard del nostro fortnite che ci annuncia la sospensione del servizio per la patch 9.10 inizierà alle 9 set che dovrebbe essere central european time che dovrebbe essere alle 10 per noi cioè voi dovete basarvi sul fuso orario 0 che è il set e poi in base a dove siete nel mondo vedere noi siamo al fuso orario più 1 e quindi è alle ore 10 un down time davvero incredibile innanzitutto ragazzi arriva un tweet di epic games che dice get ready to drop in e poi c'è una scarpa da basket l'update 9.10 verrà rilasciato domani oggi maggio 22 ma la cosa incredibile sono le ultime due righe the will be extended down time for this release ci sarà un down time dei server extra quindi ragazzi potrebbero rimanere giù per molto più tempo di quanto non fanno di solito indicativamente quando c'è un down time in 30 minuti 40 i server tornano attivi qui secondo me a parte il fatto del discorso jordan che sicuramente centrerà assolutamente si parlerà secondo me stanno facendo faranno delle prove per l'evento o comunque per qualcosa di serio potrebbe anche centrare quella mega crepa al picco polare non lo so ragazzi ma un down time annunciato già più lungo presume grandi grandi leaks che voi ovviamente saprete nel canale ma se poi andiamo avanti ragazzi mi arriva questo tweet così come un lampo a ciel sereno e quando io vedo il toro la palla da basket la scarpa e quella roba lì che è un triangolo ragazzi a me vengono in mente i chicago bulls se poi i chicago bulls dai non vi dico neanche chi sono perché non potete non sapere chi sono se poi ragazzi mi fanno vedere nella lobby principale questa collaborazione fortnight jordan colai michael ovviamente ragazzi a me esplode da dentro veramente la gioia non sono un grande fan del basket ma la mia infanzia l'ho vissuta vedendo alcune partite dei chicago con michael e ogni tanto mi riguardo alcuni dei suoi high like su youtube ragazzi sono era davvero un campione indiscusso il più grande campione assoluto del basket se mi fa la skin di michael jordan guarda la voglio 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 la skin di jordan però non me la potete fare alta perché sennò quando devo andare a mirare mi cecchino dalla testa no staremo davvero a vedere ragazzi perché si preavvisa davvero tanta roba per questa potrebbe essere anche una nuova modalità non sappiamo nulla ci ha davvero colto alla sorpresa ma andiamo avanti ragazzi ed eccolo qua il nuovo honor 20 ragazzi disponibile ancora no ma presto già in preordine sicuramente nuovo telefono che costa una minchiata parliamo di circa mille euro più o meno come già sapete per i possessori della dell'honor 10 era disponibile la skin honor guard tra l'altro tornata disponibile l'altro ieri dopo il periodo di inattività ma già lo sapete beh ragazzi con questo nuovo telefono arriva la skin wonder eccola qua tanta tanta roba per questa nuovissima skin disponibile voglio comunque farvi vedere che cavolo dove siamo arrivati voglio comunque farvi vedere ragazzi la skin in game eccola qua molto molto interessante con un balletto nuovo che non posso farvi sentire l'audio perché ovviamente rischiamo di brutto bella cioè particolare diciamo esclusiva ecco come vedete ha dei particolari molto molto interessanti che probabilmente avrete già associato ad un'altra skin ragazzi sto parlando di operazione segreta è praticamente questa skin una rivisitazione di operazione segreta che quindi per i collezionisti non può mancare nel proprio armadietto ma siamo io non non ce la faccio non ce la faccio quando lo guardo e guardalo là guardalo è felice come una pasqua a capodanno porco mondo parliamo ragazzi del caso tifu ve l'avevo tifu come cavolo ti chiama come si dice vi stavo già dicendo ieri tutto il disastro che è successo ragazzi tifu mi fa la denuncia perché mi si ubriaca la x sky ragazzo di 13 anni che è nuovo membro dei phase hanno fatto il festino alla phase house in california è partito l'alcol a merda e ovviamente non si può perché i minori non possono prendere alcol tifu mi fa la denuncia e denuncia ragazzi cioè mi fa mi fa da ridere io non posso vedere queste foto non ce la faccio non posso lavorare seriamente quando mi presentano queste persone allora questo signore ragazzi è face banks uno dei fondatori del phase clan il genio indiscusso del male che ha detto rispondendo a tifu noi non vi abbiamo rubato noi non ti abbiamo rubato i soldi tifu gli dice ma scemo io non ho detto che mi avete rubato i soldi quindi ti sei fregato arrivano ovviamente toglietemi toglietemi face banks perché non ce la faccio arrivano ragazzi ovviamente dal web delle dei messaggi ne leggiamo alcuni stiamo parlando di tweet di membri dei phase che dice ma siamo seri dice phase yellow il numero di perché ovviamente ha avuto una ripercussione incredibile sul clan il numero di persone che dicevano di essere i fan esagerati dei phase si sono tornati indietro non ho parole risponde blaze addirittura listen i'm gonna say si imma defend my bros my team until the day i die ragazzi questo sembra addirittura ragazzi l'ultimo dei dei quelli con la spada no ascoltate mio sto dicendo che difenderò i miei fratelli il mio clan fino alla morte quindi questi sono tutte delle cose nate dice dovete fare delle ricerche prima di parlare contro ovviamente ha avuto una forte ripercussione porcomondo mi esce la notizia del friday fortnite mi arriva ieri il tweet di face banks che dice i 60 mila dollari che tu pensi che noi ti abbiamo rubato in realtà noi non ce l'abbiamo ma porca bastarda tre ore fa arriva la notizia che ha il friday fortnite organizzato da team star è stato sostenuto con 60 mila dollari da parte del face clan io non c'è ma che allora poi approfondiremo il friday fortnite per chi non lo conosce è una roba che torna dopo tanto tempo ma che aspetta un attimo dagli 60 mila dollari che c'hai il fuoco sotto al culo io non lo so ragazzi per adesso vi ringrazio perché la vicenda tfew è veramente meravigliosa io spero di continuare a portarvela finché ci saranno delle novità voglio capirla questi 60 mila dollari dove cavolo gli sono arrivati vi ringrazio per aver guardato il video mi raccomando un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 13 con il nuovo update ciao